10 regole contro l'allergia primaverile più una in primavera fioriscono anche i sintomi delle allergie alcune sono più complesse per il mix di allergeni e in generale sono più lunghe per il prolungamento della stagione dei pollini ecco alcuni suggerimenti per convivere con le allergie e contenere i sintomi fastidiosi come starnuti raffreddore e lacrimazione gli starnuti a raffica il naso che cola gli occhi arrossati e che lacrimano sono i sintomi dell'allergia secondo gli ultimi studi hanno una durata maggiore rispetto un tempo a causa di un prolungamento di 20 giorni della stagione dei pollini con una maggiore complessità in 8 casi su diei a provocare i sintomi è una polisensibilizzazione cioè un mix di più allergeni insomma dietato abbassare la guardia ma quali sono le regole da seguire eccone 10 con una raccomandazione rivolgersi sempre allo specialista in allergologia per mettere a punto una terapia ad hoc regola 1 verificare ogni settimana il calendario dei pollini su www.polliniallergia.net è un aiuto per prezioso perché fornisce anche la loro concentrazione nelle diverse aree geografiche regola 2 attenzione alle allergie crociate perché sono legate a doppio filo con le allergie ai pollini per esempio chi è allergico alle graminacee può esserlo anche al cocomero al melone alla prugna alla mandorla per citare solo alcuni degli alimenti chi invece lo è alla betulla può avere problemi ad esempio con la mela la pera il sedano il finocchio regola 3 le allergie possono riguardare anche gli acari il più a rischio di affollamento è il letto utilizzare coprimaterasso e copricuscino ad hoc certificati come dispositivo medico c regola 4 sempre per tenere lontani gli attacchi allergici da acari nelle stanze da letto eliminare i tendaggi i peluche i tappeti le testiere e le poltrone imbottite i cuscini di decorazione regola 5 è meglio rimanere in casa durante le giornate secche e ventose perché è più alta la concentrazione di pollini chiudere le finestre e utilizzare quando possibile l'aria condizionata regola 6 fare la doccia e lavare i capelli quotidianamente perché i granuli pollinici spesso rimangono intrappolati tra i capelli e la notte possono depositarsi sul cuscino venendo così inalati regola 7 evitare i cuscini poltrone materassi imbottiti con prodotti di origine animale e vegetale come capo canapa crine vegetale paglia lana piuma cotone iuta all'interno di questi materiali gli acari si trovano a loro agio perché hanno sia il nutrimento sia il calore ideale per vivere e svilupparsi regola 8 per non incorrere in crisi allergiche scatenate da muffe non passeggiare nei boschi dove è presente una coltree di foglie secche ed evitare di spazzare dai giardini foglie cadute da molto tempo specialmente nel periodo in cui la concentrazione di spore nell'aria è massima e cioè tra l'inizio dell'estate e la fine dell'autunno regola 9 verificare regolarmente le condizioni dei filtri dei condizionatori questo vale per i modelli collocati in casa in ufficio ma anche per quelli montati nelle automobili regola 10 se si soffre di congiuntivite allergica prendere l'abitudine di indossare occhiali da sole per proteggere gli occhi sia dalle radiazioni ultraviolette che irriterebbero ancora di più la congiuntiva sia dai pollini presenti nell'aria massima attenzione poi se si portano le lenti a contatto è meglio preferire le monouso giornaliere e indossarle 30 minuti dopo avere instillato il collirio antistaminico